Io ve l'avevo promesso che prima o poi ci facciamo la partita Andazzi Zombie 2 Super E-Lite Zombie 1000 E qui come c'è Purtroppo quello non possiamo farlo E qui c'è il signor Mezzanotte 00 Bella Bella Simone come stai? Tutto a porno? No scusa ti vengo ad aiutare Natio Oh 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 guarda è qua sta Montevitorio Oh oh ma mi hai sparato ma sei coglione Ok Hai fatto il miglior punteggio con spazio Hai visto? Ho ucciso te Allora per chi non lo conoscesse questo gioco Io ci ho fatto un SRV E andatevelo a vedere E adesso ci spacchiamo in la modalità cooperativa Col signor Mezzanotte Che è alt destro? Qual è alt destro scusa? Alt è alt destro Eccolo gli zombie E sono nazisti E' bellissimo Allora tu copimi il culo qui davanti che io sparo A quelli laggiù Ok Eh no cacchio c'ho delle difficoltà Simone Oddio no aspetta Comunque Bastardi maledetti zozzi Bastardi Eh occhio che si rialza Oh perquisa perquisa No perquisa te a me me va Eh perquisosi Stai perquisando Stai perquisando L'altro giorno L'altro giorno Senza perquisà Sono rimasto tipo senza munizione In mezzo a 200 storici Eh effettivamente ogni tanto rimani senza munizione Perché sono davvero tanti Sono tanterri Adesso è tipo una cazzata Io sono una pippa col cecchino Sono proprio Va bene Ecco allora tu sta davanti Oh 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 Ah merda Ma tu stai Merdaccia Infamme Guarda come cazzo va Oh 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 Animazione BAM Giu nel canestro Io vado di pistola Ah 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 Bastarda Gordo cazzo Vai con l'accetta De merda E va giù Tattara Pia di a caccia Stai maledetti Tattara 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 Da schiocco Non è questa Un po' Un po' De là Eh Eccolo qua Che è questo MIG Attantosimo comunque non mi sono regolato a mettere il fuoco amico ecco bravo goglione ma ce ne stanno tipo morti di più di quanti me ne ricordassi in single player sai ha dato l'impressione un po' pure a me buono ma le granate fungono le granate dobbiamo scoprire come funzionano F1 granata però non funziona guarda ora me la tira nel culo così C no C mi sono appiattito bello appiattito mi piace sta appiattendo ci sta appiattendo senti ma no davvero come funzionano le granate aspetta un attimo che cazzo stai a fare ma te vaschi puoi mettere per te no no a me piace la gelatina dei nazisti sbudellato BAM animazione colpo in testa allora armi armi azioni no armi 2 oh vaffanculo si vuoi niente granate oddio effettivamente i granate ti salvano la vita eh eh no eh vabbè dai lo scopriremo successivamente ma scopriremo le a poco ah bello come stai tutto a poco guarda un bacetto quella è un fan è un iscritto ah ok abbiamo l'autografo e poi ti killano allo spawn point volete mangiarvi oh cazzo 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 ma andatene a fare ho finito le munizioni che ho testo mig chi è pam pam col patapim patapim a me che sono tantissimo completamente sculati i fulmini in bianco e nero si sono favolosi c'è un colpo a stoncino oh a bastarda che cazzo fai schifosa essere guarda la mezzanotte come cazzo porco giuda sei proprio un necrofilo di merda la voglia impiamo il fucilosso però tu inciampi mentre io ti sparo non vale una volta ne ho presi due di seguito tipo per un grande bucio di culo ed è fighissima fighissima l'animazione comunque mi sono ricordato che la granata non è è era un cazzo di dai esplora il villaggio va bene ma guarda un'ansia quando l'ho provato ieri per la prima volta perché facevo avanti e indietro me guardavo avanti e me guardavo indietro non sapevo che cazzo fai si che poi mortacci loro cioè non è tanto facile la strada dove cazzo deve andare ma voglio usare la pistola qui c'è tipo un obiettivo dove? in single player qua dentro c'è trovi un obiettivo cioè tu già ti sei sturato i secret certo ovviamente ma sei una merdaccia ovviamente dove stai? ah eccolo bim 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 primptrofn dove cazzo stai? oh ma sto silurone e questo è il mio pene aspetta questo qua c'è scritto tipo 43 qualcosa no c'è scritto gonzales ah ok 6 0 8 2 7 adesso mi giro e c'è Simone infestato dagli zombie perquisisce che come è finita ieri che cosa? uno stinger ma oh quelli non li disturba stanno a far fasto ho finito le munizioni bene manfredi è questo è lo spirito del gioco pammat no si è girato all'improvviso oh ancora amastardo vai fa la tarantella ole oh ma quello è la mezzaglia? quale? quello un uomo sta volando è magico zombie magici ah Simo vi avete che c'è dentro al frigo un attimo ecco c'è che c'è sta la simmental vieni vieni quasi quasi scrivi vicino io voglio la simmental apri apri gnammi buona oh oh ma che cazzo ci stanno scaracacchiando addosso oh no oh ma che oh Simo ma questo non c'era oh oh viene a cacci questo non c'era viene a cacci ma che pia a cacci a cacci a cacci ma porca puttana attento Simo dietro ok porca zuzza ladra sta cosa non c'era ho fatto tipo colpo alla testa con calcio favoloso oh attento ma mortacci tu intanto mi scrivono io non ho più munizioni porca zuzza perquisisci i cadaveri ah che pacco ok perquisiamo sono esplosi perquisiamo oh e basta scrivere su questo cazzo di whatsapp di merda ok va bene oh per questa non c'ho niente per il fucile ok devo usare il fucile da cecchino quindi vai avanti tu vai vai ciccio ti copro io tranquillo secondo lì sopra vedo se c'è sta qualcuno così pulisco al volo le torri beh su quelle torri ci sarà tanto da ripulire sappilo sappilo non c'è niente sappilo no adesso no adesso no ok c'è il faro attente qua dietro ce ne sta subito uno o due oh cristina d'avena oh cristina d'avena eeeh oh la da bimba te questo gioca a minecraft ahahahahah yeeeh olle manco jack no ti sa da sti caccio olle si ogni tanto tipo gli fai esplodare la testa con calcio ole ole ah non vedi che cazzo di squadrono no dai te avevo preso un testa no nel collo no nel colon mmm perquisisco va perquisà perquisisco ma tanto là sopra c'è sta un sacco di gente la 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 si va gita in montagna trulala si va gita in montagna trulala si va gita in montagna si va gita in montagna si va gita in montagna trulala oh questo sta seduto oh oh stai calmissimo vabbè è stanco voi lui è stanco morto ahahahah e comunque dobbiamo coinvolgere se era tabacchio ma c'è la riva assolutamente assolutamente certo che un nick più de merda non so quella la sceglie Fabio cioè io t'ho preso per culo ho preso per culo te mezzanotte oh oh figurate aspetta un po' ste porte puzzano no non puzzano più no ma aspettavo che esplodesse quel fregno qui c'è un chiaro indizio di dove andare e mi ha appena ucciso un tizio con la pala in un gioco tirami su merda e dove sei oh è andato a fa' culo no non c'ho proiettili non c'ho stavo in mezzo agli zombie non c'ho proiettili guarda Simone vestito da tipo un piccolo Indiana Jones no Simone non farlo Simone 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 non farlo no Simone che merda è stata lunga sta partita si 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 aspetta aspetta no 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 ricomincia dall'ultimo posto di controllo dovrebbe essere per forza per forza ok siamo ritornati qui ecco si qua siamo andati molto meglio siamo andati molto meglio che ci arriva a testa mentre stanno giù no ah perché è morto ma siamo sicuri che è morto mentre Simone intrattiene una bella conversazione con i morti abbe io gli tiro una granatina occhio c'è una cucina una cucina a gas aggiustiamo cucine a gas se avete perdita di gas noi chiamiamo Berlino mamma te l'affanculo stavo pure a sentire ma che cazzo sta di ok zanzare zanzare ma stai giù merda oh questo c'è la granata ma che cazzo c'ha in mano un pene allora ci vado di corpo a corpo ok ed eravamo qui che eravamo morti esattamente allora allora dove cazzo di merda si passava di qua no di qua di qua di qua di qua ciccio qua è dove sei schioppato allora io gli tirerei un mig gli tirerei qui erano qui che tipo non arrivava una cifra giusto si vediamo se io posso poi c'è un altro che sta a dormire qua oh va bello stava eccoli qua gli tiriamo una granatina qui vediamo un po' che gli succede cioè questo qui grazie Manfredi oh tipo sei morto beh il tizio qua non stava a dormire ma stava cagando stava cagando l'altro tizio tirate su tirate su tirate su amore me levi da cazzo sto telefono ti prego oh oh ma perché questo da dove cazzo è spuntato ah ma si buttano si buttano fighissimo mi piacciono gli zombie incuranti di tutto quello che gli può succedere io ho trovato un'altra arma vediamo che fucile ottimo aspetta eh ah è un fucile a mazzette diciamo a cannette mozze beh mi hai detto cazzi però però non lo so preferisco quell'altro dove dove è eccolo però ho finito le punizioni però adesso le troveremo oh bello di casa come stai ma questo è psicomantis è vero è uguale ah snake salvi molto spesso vedo che paraculata ok andiamo su andiamo su andiamo su sbrigati 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 non far esplodere le tanniche di benzina sbrigati perché adesso ah ci stanno anche le testate ottimo ma qualcuno l'ha testate eh no sono le testate dei minchia quelle allora ciccio fai i rifornimenti queste queste casse sono infinite mentre ovviamente le munizioni che vedi in giro no cioè tipo le granate adesso eh ma non mi fa fare rifornimento adesso ne arrivano un fracco quindi una granatina laggiù no è rimbalzata a cazzo di cane però vabbè mi viene a dire un'altra consigliate che dobbiamo tenere d'occhio le scale perché imboccano eh questo fucile non si risolve in cazzo uno dalle scale ok a posto stanno uscendo dalle case sono tantesime io gliene tiro un'altra mi piace troppo direi granate a un mucchio di zombie eh beh pauloso dove stanno le granate granate c'è la mina brava brava solo brava 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 io qui c'ho la mina quella là col cavo oh oh ciccio a destra a sinistra a destra a sinistra yeah ma perché non gli schiacciare la testa mi ricordo se potesse fa oh non lo so guarda io sono totalmente neofita del suo gioco ok allora voglio provare a piazzare sta cazzo niente non me la fa proviamo a prendere la dove cazzo sta la mina d'inciampo ok quindi faccio così no però aspetta se la piazzo qui tipo esplodo anch'io F ok trascino la corda ce n'è uno che corre via damose non scende laggiù ovviamente ma no figa 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 mi piace vediamo un po' da qua fuori oh scendiamo un po' laggiù la scende è pazzito non sembrano arrivarne altri quindi ci stanno soltanto sti stronzi sti stronzi da dove arrivano? eh considera che io non ho seccati parecchi qui c'è un fucile diverso io l'ho buttato io oh sono un fucile sono un fucile oh ma vai giù merda aia cazzo dove cazzo l'ha mai andato voraccio ma morite sciocchi oh le questo sembro io ieri sera contro gli zombie in minecraft la 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 stanno salendo le scale ci riesce a coprirmi un secondo da questi qua? yes vai oh cazzo perché adesso perché adesso è molto divertente ok c'è uno zombie morto con gli attacchi epilettici che scende le scale guardalo 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 ti prego scendi vediamo? oh vedi intanto dei cani abbaiano no sei morto peccato obiettivo completato oh abbiamo vinto in due è molto più facile da solo tipo ci ho messo è mille ore allora eh me lo ricordo ho visto il video ok abbiamo preso tutte cose i cani abbaiano che palle scendiamo che cambia tra questo fucile lo Springfield lo Springfield e il Mosin il Mosin e lo Springfield è un po' più bilanciato diciamo che è quello basilare il Mosin se non erro ha più precisione ma più zoom scusa e più rinculo dove stai? però è meno preciso sono sceso eh sì chiaramente perché se c'è rinculo venga venga che qui c'è un zombie buono guarda questo oh ma sto svasticone ha perso la testa dove sta? qui oh povero dov'è lo svasticone? eccolo si che ha il eccolo ma fai di queste cose non ci dicono scusa 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 no la luce si può rompere è molto bello tutto questo è molto bello allora sbroccoliamo qui dentro e mi sa qui c'è qui c'è una faccina felice quindi moriremo tutti e vai quindi credo che abbiamo completato il primo stage e mo qui dentro c'è San Nemesis no qui dentro se fanno le orge col culo bello bobo e io chiudo qui e ci vediamo